Ciao a tutti ragazzi, io sono Eke Carly e questa è Cimia! E benvenuti in questo nuovissimo video nel mio canale! Sono almeno dieci mesi che non dico che sono Eke Carly E cosa dici? Sono Carly! Ah, ciao, sono Carly! Quest'oggi andrò a fare la reaction al nuovo mondo di Carly che io non conosco Da quanto tempo ce l'hai più o meno questa vanilla? Ma circa due mesi Due mesi, ok E questo, Cimia Craft? Direi di sì, è proprio quella Cimia! Posso tenere io Cimia? Poi tenere tu Cimia L'importante è che non mi prenda pugni Cimia non t'azzardare Cimia Cimia! Ah, è casa tua questa? Sì, è casa mia Ma scusa, qua? Cos'è tutta questa zona vuota? Eh, no, allora, no, aspetta Tutte le cose che vedi non è che sono ufficialmente terminate, finite Ok Cioè, sono ancora, infatti vedi, la casa non è decorata bene Ok, ok, perché ci sono delle uova Cos'è la ricetta della torta? Ok Devi guardare delle ceste, sono tutte Io, io mi ricordo, mi ricordo la tua vecchia vanilla che era molto molto bella Quindi mi aspetto grandi cose da te, cara Carly Devi sapere che questa è una vanilla basata Grazie, signor contadino Prego È una vanilla basata sulle costruzioni a tema magico Che significa? Che hai fatto tipo la torre del mago, quelle robe là? Eh, sì Sì, sì, tutte le cose sono fatate, magiche E mi danno anche tantissimi consigli nei commenti continuati così Perché fai dell'altro pane? Ne avevo abbastanza Ne avevi pochissimo Trenta di pane non sono abbastanza Capisco Io vado in giro con 60 carote d'oro Capisco Nell'impercroft Allora, guidami Devo scendere da qua? Scendi dalle scale E non guardare troppo in alto Togliti la visuale Ma se vuoi mi chiudo gli occhi Cioè il video lo sto facendo io Vai, scendi Guardando, sì, le scale Ok Guarda che belle Tra l'altro queste scale Come faccio ad apprezzarle se non posso guardare? Ok, belle, belle, belle Effettivamente belle Ok, adesso puoi guardare Effetto sorpresa Boom Oh, bellissima la torre Ho iniziato a fare un villaggio fatato Mazza, scusate un attimo Ma è una farm di rose? Dove le trovate con queste rose? Tanta farina d'osso e vicino a una pianura con le rose Ok, ok Non ho mai visto così tante rose in un mondo di Minecraft Però è bello, decorano bene È vero, è vero, ci stanno Allora, questa è una teiera Sì, lo vedo E dentro ci vivono Marley, Polly e Bubba E lo sai che con... Guarda, ti faccio vedere una cosina Allora, aspetta, guarda Gli date da mangiare il fiore? No Gli puoi... Eh sì, ovviamente Gli hai fatto rosso Il fiore rosso, genio Sì, gli puoi cambiare il colore Grazie Metti la Polly questo Dov'è Polly? Ecco qua Vedi? Così li riconosci Non l'ho fatto Eh, è bello, è bello Ok, quindi questa è la casa dei cani, la teiera È la casa dei cani È la prima costruzione che abbiamo fatto Praticamente dopo la casa La domanda sorge spontanea Perché? Perché è una teiera? Perché è tema magico Cioè, quindi ho pensato Vabbè, la teiera è magica Mi hai visto una costruzione di teiera? No, è punto No, effettivamente non l'ho mai vista Ma stai andando Eh, vado a casa a dormire Così ce la possiamo godere per bene di giorno Saltano Brava che hai fatto le scale vere e proprie Cioè, che così puoi salire Prossimo video devi decorare sta casa Va bene Ok? Va bene Prossimo video ragazzi si decorare la casa Quindi se avete dei consigli iscrivetevi qua sotto Persino casa mia nell'impero craft è più decorata E io faccio schifo a costruire Da te mi aspetto grandi cose Carly No, silenzio Un altro consiglio che ti do Ma scusami No, sì, sì, è così, è così Ecco Ma che schifo Ma cosa fai? Ma che schifo, è molto meglio Ma perché così? Ma poi tutte e due girate di là No, rimettile come rompila Ok, vabbè Subito Ok, continuiamo con il tour Ok Allora, praticamente abbiamo creato Senti È il mio video o è il tuo video? È il mio video No, è il mio Abbiamo creato un villaggio Fatato Abbiamo chi? Io è fan Perché ovviamente Anche le loro idee Oh, attenti creeper Per favore Attento Va bene Non mi fare esplodere le rose Allora, sono o non sono un professionista di minecraft Ci gioco o non ci gioco da dieci anni? Hai ragione Secondo te faccio esplodere un creeper? Sì Non andare da lui Non andare Beh, se esplode Ale, se esplode Visto? Non succede niente Carly Morto Ti ripigli tutto E chi mi fa il terreno adesso? Eh? Cosa credi che abbia erba infinita? No No E mi ha finito la palla con trucco di velluto L'unica palla che avevo rimasta Grazie Ma perché hai la palla rotta? Scusa Aveva due utilizzi Bello qua Ti piace? Me ne sono accorto solo adesso che esce l'acqua Eh, non vedi, è carino Fa il laghetto Sai cosa dovresti costruire? Una bustina del tè gigante che cade tipo dal cielo No, sto scherzando, è orribile Allora, questa è la torre della cimia incantata Dove ci vivono Pipo e Pipa Pipa è mantenuta da Pipo Comunque dei nomi sobiri Qua ci vivono i villager, non ci vivono i cani? No, no, qua ci vivono i villager Guarda, Pipo e Pipa Eh, stanno giocando a scacchi Che cosa stanno facendo? Si stanno guardando intensamente negli occhi No, se volete me ne vado, eh Cioè, stiamo disturbando palesemente Sì, sì, sì Allora, Pipo e Pipa Allora, li fai di sempre Nei momenti particolari Ma che loschi, ma che fanno? Vediamo che combinano Mazza che noia la loro vita Io sento cosa dicono Ah, sì Stanno conversando Cosa dicevano di bello? Oh, qua c'è il mio magazzino zucca Ma che cos'è sta roba? È una fontana con una luna barra C Di Carli Oh, è che Carli Ok, sono contento che questa volta La cerchiosità l'hai fatta bene Non come l'arcobaleno che avevi fatto nell'altra vanilla Che era stortissimo Non era storto Era storto No, era simmetrico Era stortissimo Era simmetrico Non era un arco Ok, però era simmetrico Uh, magazzino zucca? Sì L'hai fatto per Halloween? Eh, no Perché zucca? Oh, forse sì Non mi ricordo Non so È tema fatato È una zucca Bello, bello Un po' confusionario Un po' disordinato Eh sì, piccolino Sì, ma sai che sono disordinata io Quindi ci sta Questo è invece il signor gnomo Vedi che carina che è Ha un nome? Signor gnomo Ah, il suo nome è signor gnomo? Sì Ok, a cosa serve? È tipo il guardiano della città? Sì, è il guardiano del magazzino Ok, sono io da vecchio probabilmente Sei tu, sì Ma quanti fiori hai? Scusa A me piace Oh, uno con le allergie al polline Qua ci schiatta Funziona? Sì, funziona Nonostante ci siano Nonostante quello Ha sempre funzionato Ma l'avrei mai detto È un progetto gigantesco Questo praticamente Questo? Sì No, in generale Tutto questo col villaggio Praticamente sto cercando di costruire In ogni casetto Un negozietto In cui ci sono i villager Che vendono top cose Ah, stai facendo una città Praticamente Una città, esatto No, però poi l'entrata va modificata, Carly Ti fidi di me? No Perfetto Guarda Guarda il maestro Che ha imparato a costruire Io ormai so fare tutto Ma scusalo Dobbiamo fare proprio adesso Certo, certo Questo lavorino Guarda È semplicissimo È semplicissimo È così Da qua E lì Voilà 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 Hai ragione Ti devo dare il merito Però non hai messo una scala sotto Mettila Poi te lo modifichi come vuoi Era più disturbante Avere le scale davanti Ok Vedi quanto è comodo? Cioè, in realtà piano di sopra Non c'è nulla Però era per dirti Che qua farò un negozio Cioè, imperativo Vai al piano di sopra Però non c'è niente Ok Esci da questa struttura Ah, qua praticamente ci viveranno I contadini E gli allevatori Quindi venderanno Tipo pane e carne Beh, non è che se la passano Infatti, vedi Ho fatto un cartello Lì in alto Giusto Zoomaci Non c'è l'Optifine Va bene Ho fatto un cartello Ok, c'è i cibi Esatto E l'ho messo in tutte le case Così in tutte le case Sai che cosa vende il villager Il suo interno I ragazzi però ancora non sanno Che io ho messo i villager Nelle case E che gli ho dato un nome Eh, non lo sapevate E adesso li scopriremo Origana? Sì, è origano al femminile Origana Perché dovrebbe essere femmina? Cioè, da cosa lo riconosci? Mi sembrano tutti uguali Ma il nome è da origana Giusto? Oh, non la far uscire Cioè, ho messo cent'anni A trasportarli in video Come fai a saperlo Che dice così? Parlo la lingua di villager Parli la lingua di villager Questo mi triggera Perché sto sentendo solo io Questo mi triggera un botto No Hai tolto un fiore I ragazzi non hanno visto Il laghetto che ho fatto qua Sì, ma questo mi triggera Vabbè, lascialo così Non avevo nessun altro colore Ci ho messo quello Qua ho fatto un laghettino Molto decorato Ah, 60.000 rosai E non ha Un cancelletto di spruce? Non c'avevo voglia di andarlo a prendere Vabbè, l'ho messo il primo che avevo Bello, bello Questo carino Grazie Sai che puoi aggiungere delle robe Proprio sull'acqua Cioè tipo puoi fare le lily pad Ci puoi mettere gli axolot Io nell'impera craft l'ho fatto Dovrei andarli a prendere forse Sì, è bello E in ogni casetto ho messo un villico Ok Vuoi vedere i loro nomi? Dio mio che trigger Che sono diversi Ma non triggera Franco Junior Sì, è Franco Junior C'è solo un letto Il massimo del comfort Che lusso Franco Come fai a permetterti una casa del genere? Sì, ma hai visto i dettagli delle case che ho fatto? Cioè non li hai guardate per bene Sono tutte diverse? Sì, però con lo stesso stile Un po' naturo, un po' magico È un bel villaggetto È un bel villaggetto Tu come ti chiami? Eh, volevi scappare Tazza Stupido Tazza È femmina, è tazza No, ti rompo il letto No, ti rompi Sai cosa? Ora ti salto sul letto con le scarpe No, che schifo Guarda Tazza No Guarda No, col foglio dei piedi Guarda Guarda che sei unita Comunque tu sei una dittatrice Cioè, sì, poveracci Tazza, spostati Poveracci cosa? Guarda che ville che gli do scusa Ah, pensavo che non ci fosse neanche il cancelletto No, c'è, c'è, c'è Lui che è? Basilico Certo, c'è origano Origana Lui ha due retti però Vedi, lui è un re Però ancora dentro non li ho decorati Cioè, devo ancora stabilire il lavoro di tutti Ok, ok, interessante Cosa altro abbiamo qua? Un villaggio? L'ha un villaggio Eh, ma tu non lo sai? Eh Non lo sai tu Non lo so io Ma ci sono soliti sulla torre Ho il seed O P Perché? Ho attaccato a casa la mansion Ma dove? Qua Guarda Vai dietro a questo colle C'è una foresta di alberi oscuri Scuri Dark oak Cioè, ma qua Tu sei spawnata qua? Eh, ci sono arrivata Ma in pochissimo Tipo in 5-10 minuti Dallo spawn E quindi dovresti già avere i totem Perché non li hai? Perché ancora non ci sono andata nella mansion Prossima missione? No, no No, prima ti decori casa Esatto Ti do io i compiti a casa da fare Voglio Decora casa Cioè, siamo ad altezza 138 Significa che tu sei proprio a piano terra A valle Guarda Dove? Davanti a te Oh, è vero Che bella tra l'altro Così Ce l'ho appiccicata Quindi questo è il tuo mondo Sì, guardalo dall'alto Che carino che è Dall'alto devo dire che è veramente molto bello E se le ho larghi tanto Cioè, tipo Fino là Apreterò il villaggio sicuro E anche oltre Là ci fai un bel ponte Un bel ponte È una posizione perfetta Brava, brava Molto bello Ci sta Molto bello Beh ragazzi Io spero che vi sia piaciuto questo video Ciao C'è un ciuffettino fuori posto Ciao